Io pensavo invece che non riuscivo Ragazzi un saluto a vostra startine Bentornati su BrowStars Non poteva mancare il capodanno cinese Con la sfida lunare per quanto riguarda il coniglio Che a quanto ho capito dovrebbe essere il capodanno Cioè dello zodiaco del coniglio Va bene Non interessa a nessuno questa cosa Dobbiamo andare a ritirare subito tutti i premi Che ci ha regalato Supercell BrowStars E tutto quello che ci segue Mettiamoci questo 90 credit tutti i nostri E questo pure è nostro Scusate ma stavo leggendo 2,40 euro E avevo paura se ci cliccavo Mi ero mezzo impallato E facevamo lo scam Lo scam tattico Oh che carino Ma come si fa a essere così carini Poi mi sembra che c'era pure quella di rosa Che bello Tutto ci stiamo prendendo Rosa quanto sei sei che zì Controlliamoci l'evento che lo sto aprendo con voi Quindi dovrebbe essere Quanto mi ha detto Lilith Ma ho fatto lo spoiler Tutto basket Sono 3, 6, 9 Le mappe sono queste Qua sicuramente ci saranno un botto di tank Mamma mia questa è aperta Questa è pericolosa Questa invece no Bella l'icona Molto bella Assomiglia a quella del Che hanno regalato ai creator Troppo bellina Siamo insieme A Ivan E a Christian Se perdiamo Li prendo a schiavo No non è vero ragazzi Nessun Christian Nessun divano verrà maltrattato Non vi preoccupate Che voglio bene a tutti ragazzi Lo sapete Bando alle ciance E partiamo Allora ragazzi Ho messo energetic Perché andrà a mettere sempre Griff Non è che mi stufa A me piace mettere Griff Perché è fortissimo Questo è convinto Che dal centro Va a fare già subito gol Ho messo lui Per cambiare un pochino Ragazzi No aiuto Divano I buchi I buchi Bravo Divano Bravissimo Così si fa Quello già c'è andò a mettere pure Ma no Aspetta Aiuto C'ho paura se qua crepo Se mi lancia una roba Cusciamola Così prendiamo meno danno Ok Non si sa come abbia fatto il canestro Dobbiamo fare super veloce Mamma mia Che sono tutti sti Cosi brutti Buzz Quello che va a stunnare L'altro che stunna pure Oh Aspetta Mamma mia Ragazzi Ma che sta succedendo qua Aspetta Aia quanto danno Che fa Frank Qui Aia L'ha già il pallone Questi sono troppo grossi Aspetta Aspetta aiuto Che è successo di qua Ma che vuoi Come ti permette Aspetta No Mori È morto Ce la fa La ciarla Già c'è Ah no Certo Sicuramente No A meno male No dai Mi ha tolto il pallone Il brutto struzzo Fate sto gol Gol Ragazzi io dirò gol sempre Ragazzi io sbaglierò E dirò sempre gol Perché il mio cervello Le mie sinapsi Non si collegano Non si sincronizzano Col basket Non si sa Perché non si capirà mai Quello di là Ci vuole andare A grappare tutti Buono L'ho schiappato da lontano Non so manco io Come mai ho fatto A schiapparlo Buono Quello è andato Via così Via col pallone Buttatelo giù Togliti Via Buono Vabbè quello non gli interessa Di venirmi qua No Togliti Quanto danno fa sto coso Energetico Ma che sei esploso malissimo Tira Ma dove ho tirato Nel nulla È buono perché lancia le pinze Poi torna indietro Ti fa il doppio danno Sta aspettando che appunto Lo andiamo a pushare Così almeno diventa dissociavoli Io che non prendo spike Perché non so Aveva ancora lo scudo Che è fortunello Christian che lancia E fa canestro Astartide che prende mazzuliate Ma perché il dislike Cosa avere fatto di male Per avere dislike Da parte tua Noi non meritiamo Dislike Perché fanno così Ma qual è il problema Aiuta Mi stai seguendo quello grosso Fammi spostare Almeno se curano tutti di là Casino Togliamo pure Sam No Non c'è Se stacca più in niente Che cos'era quello Casino Perfetto Ritiriamo Uh che bellissimo Che è? Scoppiamo per aria Botti Napoli Ok Altra comp diversa Ragazzi stiamo cambiando le comp Così almeno diventa più Un po' più carino Anche per vedere cose diverse Non sempre cose uguali Che comunque è divertente vedere Aspetta Quello è andato Ma come? Ok Ce l'ho fatto Ma ce l'ho fatto io Bene Io pensavo invece che non riuscivo No 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 Tensi che No la puzza no La puzza no La puzza sì Mi stava per clappare Invece No Guarda quello che gira male Ma il pallone lo lanciate o no? Lanciate sto coso Ma aiuta Quello mi vuole bene È il primo È il primo Io ti voglio bene Per favore Dai Avanti Vieni qua Aspetta Quello è andato Può funzionare Soltanto che c'è il primo Che è un problema Se tira un pugno No La puzza Qua nelle mine Tu ho finito Chi l'aveva vista Non è che Per fare gli struzzi Dobbiamo essere pure stupidi Giusto? Ancora con ste mine Un bambino Di nuovo Ah beh L'ho scappato pure io No Ma questo Aiuto Aiutate Ok grazie Sono una ragazza Dovete prendervi cura di me Anche Anche Bea Ma Bea è dissocivole Come ragazza Ok Mettiamo quello E basta Dai No Ma che Qual è il problema di fondo? Com'è che non riusciamo più? Ci sono Le tante mine Ci sono È il primo È il primo si è arreso Dice vai sta faccia Mi so stufato Ciao 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 Ma che Oh Eh che cavolo Di nuovo Di nuovo è il primo Ragazzi Questi già sono più bravi Vedete che non si fanno acchiaffare Aspetta Va bene Tu stai aprendo Dico A me non crea un problema Anzi A me stai liberando Di problemi In questo momento Vi ricordate Quando i colpi di Jesse Eh certo Te pareva Io che potessi fare Ma Allora Ripetiamo Vi ricordate Quando i colpi di Jesse Facevano lo stesso danno? Continuamente Sempre lo stesso danno Era dissocivole Ok Quella è andata Bravo divano Eh sì Ma Quello si vuole lanciare Wiii Certo Oh Perfetto Christian ha cambiato brawler Perché si trova meglio con Ems Aspetta Vabbè dai Tanto ci sono pure gli altri Che sono pure diversi Beryl potrebbe pure funzionare Qua sapete Oh Ma che vuoi Certo Aspetta Aspetta Buono Ok Ci riusciamo così È un po' complicato Eh no Mannaggia a me Volevo fare tre punti ragazzi È colpa mia Quanto danno ci stanno a fare Oh ma che Oh no Dai che ci fanno il punto No Ma come Ma come niente punto Vergogna Ci avete la possibilità di farlo Vergogna anche a me Che non ci sono riuscito Facciamo così Mettiamo quello Facciamo pure Oh Vediamo se riesci Sì Perfetto Cioè è rischioso Non è che è difficile Perché tu vai a sprecare la ulti Vediamo se riesco Niente Ma ho clappato Pazienza Forza No Eh dai Fatecelo fare Ormai l'ultima è persa per voi Comunque ragazzi Guardate quanto è carina la lanterna Troppo Troppo bellina Poi tutta sorridente Con le guanciotte rosa Come fate Addividi no Ve l'ho detto all'inizio del video Secondo me Forse qua Anita è ottima Mannaggia a me Che caspita Qua ci sono andati a mettere I brawler cattivi Quello ci ha messo Mortis Menomene che c'abbiamo energetic Aspetta Facciamo così Ah se la camperano loro Oh ho capito Allora ti va a pushare E moriamo giustamente Cheat Anita va bene qua E poi scopriamo che realmente è proprio perfettissima Aspetta No Che balle sto coso Bravo signor divano Aia Facciamo così Andiamo pure di là Facciamo pure così Così normalmente gli facciamo pure danno Attenti ragazzi Boom Attenzione Hanno lanciato il pallone ma non sono riusciti Boom per noi Oh ma quanto è rischiosa questa È rischiosissimi Missilistica Missilistica che ho detto Mamma mia Ma secondo me Noi ci stiamo di proposito Complicando la vita Vero No Forse Non è che direi che è così Ma vabbè Potrebbe essere Perché non si sa Aspetta che mi vado pure a spostare di là Buono l'ho chiappato Aspetta aspetta che Aspetta aspetta Facciamo pure così Lui non so se andare là da quell'altra parte Aspetta io l'orso Devo un po' tenere dall'altra parte Quello sta lanciando di tutto Fammi mettere qua il piccolo coso Quello mi sta bruciacchiando Divano pensaci tu Non so che dirti Aiuto Dai No Non dovevi sbagliarlo questo È complicata Poi lui stesso si sta aprendo là la roba Cioè mamma mia Meno male che lui pure sta difendendo bene Cheat No Ci ha fatto il gol Mi dissocio ragazzi 42 secondi non si possono vedere ste cose Aspetta Ok Basta Eh ci avete rotto Facciamo un po' i seri ragazzi Dai Avanti Ma poco i seri Dai avanti che non va bene così Allora un attimo solo Aspetta Vado a metterci pure a lui No Togliti Non ce l'ha fatta Ragazzi 15 secondi Aspetta E niente Ci ha clappati Stiamo 2 a 3 Non so se riusciamo Se riusciamo bene Se no niente Pacienza No Vabbè Cristian Ma sei un Gesù Sceso in terra Ragazzi è l'ultima E ovviamente Nell'ultima Chi ci potremmo trovare Ems Gelindo I meta Che bello Essere così cattivo Non è vero Sto scherzando No stiamo parlando per loro Più che altro Niente Mi vuoi bene vedo Eh ho capito Ha vinto il fight contro di me Perfetto Vabbè Cristian è là Come i topi dentro I buchi Se se la scappa Se ne va È tutto Aspetta È il tempo che io mi vado pure A prendere l'orso Aspetta Mamma mia che rottura Che sei gelindo Mamma mia Aiuto Oh Ma come che non l'acchiappavo Ho detto Ma che succede Di nuovo mi ha spinto Che bello È bello Eh no È perfetto Buono Oh l'angolino L'ho preso bene Direi Oh e basta Ce l'ha con me il gelindo Via Aspetta No Togliti gelindo Hai rotto Basta gelindo Basta Ma guarda Quest'altra Cioè c'è l'orso Che sta Fai Bevasti Bravo Cristian No L'audio mi è esploso Togliti gelindo Hai rotto Via Ebs Ma come Ebbè basta Aveva vinto Così Icona del giocatore Ma veramente Mi stai dando il raviolino Ma quanto sei bellino Ragazzi a me piace Brawl Stars E quindi Fatemelo prendere Con così tanta tranquillità Che mi piace Mi ci diverto io con Brawl E spero che vi divertiate Anche voi A vedere i miei video Che cosa c'è Il resto Ah giusto Sì il resto Icona del giocatore Grazie mille Grazie Divano Grazie signor Cristian Ragazzi Per questo video è tutto Lasciate mi piace Iscrivetevi Commentate E condividete In descrizione trovate Instagram TikTok E il server ufficiale Discord Del canale Vi trovate ogni giorno In live Con Brawl Stars Stumbleguys E Fallguys È tutto Ciao 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 Ciao